Francesca Scuccia, una ghost rider qua nel golfo di Giardini Naxos, ma che cosa è una ghost rider? Ghost rider significa letteralmente scrittore fantasma, infatti è quella figura che scrive libri commissionati da terze persone, che possono essere di qualunque tipologia, per poi cedere i diritti e quindi queste persone possono pubblicare come se avessero scritto loro stessi il libro, il romanzo, il manuale. Quanti libri fantasma, chiamiamoli così, ha scritto? Diciamo che negli ultimi sei anni credo di aver superato la sessantina. Ma c'è anche un'altra attività che lei svolge, quella della recensione dei libri, ecco ora ha fatto quasi un record, oltre 100, è vero? Esatto, nel linguaggio comune siamo le classiche book blogger, book talker, infatti lavoriamo appunto con delle pubblicazioni che possono essere di autori emergenti o meno, anche perché le case editrici cominciano a dare molto valore a queste figure che si muovono soprattutto sui social e quindi recensire, far conoscere a quante più persone possibili delle nuove uscite. Ha intenzione di proseguire questa sua attività così bella, così interessante? Assolutamente. Assolutamente.